Ciao, mi chiamo Tina. Sono qui a Padre Pio Foundation of America. Sono qui con mia mamma e lei vuole dire qualche parola di come il coronavirus ha cambiato la famiglia, non solo nostra, ma tutte le famiglie in America. Mi chiamo Franca Fazzino, sono nata in Sicilia e sono cresciuta in Augusta, provincia Seracusa. Sono venuta negli Stati Uniti nel 1958, ho raggiunto mio marito. Molti di noi nelle generazioni più anziane hanno già visto pandemie e periodi del guerra. Anche se i tempi sembrano fuori, tutti stanno attraversando questi tempi difficili. Devo credere che le cose alla fine torneranno normale. Forse è diverso da prima, ma le persone sono resistenti e si adatteranno. Tutti abbiamo bisogno della speranza, delle preghiere e della convinzione che Dio ci farà soffrire inutilmente e non ci abbandonerà. Parlo con i miei parenti ancora in Italia e guardo la RAI in TV. Quindi conosco le crisi che stanno attraversando anche loro. In America abbiamo vissuto molte delle stesse situazioni in cui tutti voi avete vissuto in Italia. Molte decessi, perdita di posto di lavoro, famiglie separati incapaci di partecipare a momenti felici e salutare i propri cari che hanno perso a causa del coronavirus. Sono vedova e mi divertivo a passare un po' di tempo ogni giorno solo andando al negozio di alimentari e prendendo un po' di benzina per la mia auto. Non posso più farlo. Le mie figlie ora mi riportano la spesa e non guido. È difficile per me una donna di 80 anni rimanere a casa e non socializzare. Posso solo immaginare com'è per le nuove generazioni che hanno mai assistito a una crisi come questa. Per me meno male c'è la televisione e il telefono e Facebook in modo da poter socializzare la mia famiglia e i miei amici. Mi hanno aiutato a rimanere positiva durante il periodo di quarantena. Le preghiere hanno anche fornito un qualche tipo di conforto. Cerco di concentrarmi maggiormente sulle mie benedizioni e di rimanere fiduciosa che saremo tutti in grado di abbracciarci di nuovo come prima. Prego Dio e tutti i santi in particolare Padre Pio per la salute e il benessere di tutti coloro che sono nel mio paese natale e chiedo in cambio di pregare per tutti noi. Amen Padre Pio